Matteo, mi dici un po' quello che è successo. Siamo al primo minuto della ripresa, in vantaggio è il Milan. C'è un'azione che imposta Zalageta, lo stesso Zalageta alla fine si guadagna un calcio di rigore fischiato da Paparesta, forse con l'aiuto del bip elettronico del Guardialini e Contini. Un rigore francamente inesistente, perché Zalageta va proprio nettamente a cercare Maldini, che neppure si accorge di incocciare la sua gamba sinistra con la sinistra di Zalageta. Lo vediamo bene da questa immagine, abbiamo altri due replay che possiamo lasciare andare. Direi che il prossimo è ancora più evidente sulla dinamica di questo incidente cercato, ma non voluto, cercato da Zalageta. No, il prossimo ancora. Facciamo scorrere questo e vediamo l'immagine, a mio avviso, più significativa, con Marco Del Frate che ce l'ha piazzata. No, era questa, era questa.